Dopo la denuncia dell'Associazione Simmachia di Adrano e Biancavilla sulle condizioni pietose in cui versa il fiume Simeto e sul malfunzionamento del depuratore di Adrano, abbiamo voluto fare un tour nei sistemi di depurazione del comprensorio. Lo scenario che è emerso è davvero inquietante e parecchio preoccupante. Ad accompagnarci sono stati alcuni componenti dell'Associazione Simmachia. Le immagini che vedete si riferiscono alla zona di Schettino nei pressi dell'ex stazione in territorio di Santa Maria di Licoddia. Qui il corso d'acqua che fuoriesce dal depuratore si presenta torbido con liquami e schiume, anche se le schiume sono di minore entità rispetto a quelle segnalate vicino al depuratore di Adrano. L'acqua non depurata prosegue il suo corso e quando si è già in territorio di Paternò si riversa in un torrente mescolandosi con acque bianche di diverse sorgive. Inquinandole e finendo dritte dritte nel fiume Simeto. Oltre al depuratore anche il collettore fognario di Licoddia inquina, come vediamo, un corso di acqua cristallina. Un patrimonio naturalistico e paesaggistico di incredibile bellezza che pochi probabilmente conoscono, lasciato nella più totale indifferenza da parte di chi dovrebbe provvedere a salvaguardare l'ambiente sia a livello regionale, provinciale ma anche locale. Trasferendoci a sud del centro abitato di Licoddia raggiungiamo la zona in cui è collocato il depuratore. Come ad Adrano a gestire il sistema fognario di depurazione di Santa Maria di Licoddia è Acoset e c'è chi dice, tra i cittadini, che il servizio era nettamente migliore quando era gestito dal comune. Uno dei cittadini che si trovava sul posto ci dice che il depuratore costruito più di vent'anni fa non può depurare, qualora funzionasse, tutta l'acqua dell'abitato di Licoddia. Siamo al depuratore di Santa Maria di Licoddia che appare totalmente in stato di abbandono. Le vasche sono stracolme di liquami, il corso d'acqua non depurato si riversa in questa botola che noi vediamo e quando piove la botola fa riemergere tutta l'acqua che è al suo interno diventando una vera e propria fontana di liquami. I cittadini hanno già raccolto delle firme ma attualmente ci dicono nessuna risposta. Uno residente della zona ci mostra un video registrato col suo videofonino che state vedendo e ciò che accade al primo acquazzone, una vera e propria fontana di liquami che raggiunge in altezza addirittura i cavi dell'Enel. Liquami che fuoriescono anche dal cangello d'ingresso del depuratore e si riversano in appezzamenti di terreni privati mettendo a rischio di inquinamento le coltivazioni. Da segnalare pure la mancanza della recinzione che dovrebbe delimitare l'accesso al depuratore. Ci spostiamo a Biancavilla dove anche qui scorrono schiume e liquami. In questo caso il servizio idrico è integralmente gestito dal comune. Nei pressi del depuratore, collocato nella zona sud-est del centro abitato, l'aria è davvero irrespirabile. Nonostante i bandi di gara d'appalto dello scorso mese di marzo per il completamento dell'impianto di depurazione per un importo di 1.220.000 euro e per il servizio di gestione e manutenzione del depuratore per un importo pari a quasi 25.000 euro, il depuratore è funzionante fino ad un certo punto. I biodischi, vista la portata di liquami, non sono in grado di depurare tutte le acque. Inoltre, parte dell'acqua che non riesce ad essere contenuta nel sistema di depurazione viene bypassata in un canale per poi congiungersi con quella che dovrebbe, il condizionale ed obbligo, essere depurata. Oltre ogni logicità, il simeto ma anche le tasche dei cittadini lanciano un campanello d'allarme. Da una parte l'annunciato disastro ambientale, dall'altra la legittima pretesa dei cittadini di chiedere il rimborso per il canone di depurazione, così come è previsto peraltro dalle normative vigenti, considerato che il servizio effettivamente non esiste.